Ciao, buongiorno. Oggi ti volevo parlare del libro che si chiama Ikikomori. È un nome giapponese che non è stato tradotto in italiano perché è una corrente sociale che è nata in Giappone, più o meno negli anni Ottanta. Io sono rimasta molto molto sorpresa da questa cosa perché praticamente sono dei ragazzi e ragazze, soprattutto maschi, che si chiudono in casa e non escono più. Questo perché non ce la fanno a fronteggiare la società. In genere succede nei momenti di passaggio, dalle scuole medie alle scuole superiori, dalle scuole superiori all'università o eventualmente al lavoro. E infatti più o meno sono ragazzi dai 15 ai 29 anni. Addirittura in Giappone, siccome è iniziato negli anni Ottanta e queste persone non possono essere più mantenute dai genitori perché probabilmente non ci sono più, esiste una pensione, un'invalidità sociale perché questi ragazzi, appunto, ormai che sono uomini, non escono di casa. In Italia è nata più o meno una decina di anni fa questa associazione degli ikikomori italiani. Diciamo che rientrano anche le persone che comunque continuano ad uscire, vanno a lavoro o vanno a scuola, però hanno difficoltà a socializzare. E' stato visto che spesso questi ragazzi sono stati ragazzi soggetti a bullismo, quindi sicuramente un modo per aiutarli è riuscire a sensibilizzare contro il bullismo i nostri figli, le istituzioni, le scuole. Poi, diciamo, non è la stessa cosa dei net, che sarebbero quelle persone che non lavorano, non vanno a scuola e non cercano né di lavorare e di andare a scuola perché quelle persone comunque escono e hanno interazioni sociali e non è nemmeno un'internet addiction, nel senso che appunto negli anni 80 non è che l'internet era così diffuso come oggi. Diciamo che l'internet aiuta queste persone che stanno chiuse in casa a passare il tempo e hanno anche sì rapporti sociali via chat, però il problema è che non riescono ad avere rapporti con le persone nel mondo reale e poi hanno visto che aiuta molto questi ragazzi andare in viaggio perché all'estero si sentono meno, diciamo, possono sbagliare perché tanto sono stranieri e quindi si sentono più liberi e insomma, diciamo, si sentono meglio. Io spero che nessuno di voi abbia un figlio che ha questa cosa che hanno detto anche che non deriva dalla depressione o da altri problemi psicologici e che a volte poi si possono aggiungere anche altri problemi psicologici perché giustamente stando sempre chiusi in casa da sole o spesso non hanno addirittura nemmeno interazioni con i parenti che vivono con loro e iniziano a scambiare il giorno con la notte, dormono male, eccetera. Poi possono sopraggiungere anche altri problemi psicologici, però non sono ragazzi che hanno problemi psicologici, sono ragazzi normali che hanno difficoltà però a socializzare. Se conoscete, spero di no, qualche ragazzo che ha questo problema, fategli presente che c'è appunto questa Ikikomori Italia, che è un'associazione che le aiuta. Un'abbraccia.